Ciao a tutti e giusti, bentornati o benvenuti sul canale, ci siamo appena visti, cioè sto girando due video in seguito, infatti ho ancora lo swatch della Mystery Bag di Pink Panda Allora andiamo a spacchettare questa, vediamo come si chiama, questa Pink Panda Secret Bag 16677B dal valore di 30,99€ acquistata a 9,99€ cioè 10€ direi Ok, non so neanche perché l'ho acquistata raga, ero a check out e l'ho presa, questa è fatta in carta e c'è una sottile, infatti già è andata, si è scollata da sola, bello Ok, io procederei, raga mi sono fatta spoiler tranquillo, non c'ho manca voglia, non so neanche perché l'ho acquistata, perché sono piena di mail in continuazione No, ai, perché è che mi ha seguito prima visto che avevo acquistato un Rayfield di Maiani, perché non mi bastavano i soldi per avere la Mystery Bag Peccato No, non è lo stesso, questo si chiama Couture, quello si chiama Transformator, comunque anche questo lo metteremo nel, appunto, è un piccolo eyeshadow, è un piccolo prodotto per gli occhi Eccolo qua, ok Adesso io non so se c'è tutto Maiani a questo punto, o comunque hanno fatto un mix, sicuramente Pink Panda Penso che ci sarà, perché comunque poi non lo so come si andrà a vedere O è tutto Maiani o è tutta una serie di prodotti C'è una palette Allora, blush palette C'è una palette di blush Sono due, quattro blush Ma di che? Di Revolution No vabbè, perché io Spesso trovo cose di Revolution Cioè, non è che voglio È che Voglio provare Revolution Pro Revolution ormai, Makeup Revolution, lo conosco, non mi piace E insomma, credo che non sia un peccato Cioè, uno ha i brand che preferisce Allora A scoccio da tutte le parti, non vorrei farmi male Cioè, neanche così, scusa, che devo fare Scusate, l'abbasso un attimo prima che mi faccio male Ok, è uscito Devo coprire lo specchio, scusate Ah, diciamo Continuo copro lo specchio Con la fattura qua Diciamo che No Cioè, a me non piace Allora Non lo so Non mi piace Cioè Cioè, al massimo user è questo Cioè, Dio Se poi vuoi fare qualcosa di più Questo Cioè La palette è questa, raga Sono tutti blush Io pensavo fossero blush più illuminanti Invece no, sono blush C'è scritto light Ma Ok Ci sono quindi questi quattro Questa palette di blush Di revolution E quindi Questo mi fa capire Che appunto Quindi non c'è pink panda in sé Ok Perché anche pink panda Dio Io a parte i mini Come si chiama C'è una cosa piccola Andiamo a vedere il brand Waibo Incontrato prima Questo è un brown Brown nutrition Piccolino È un Che contiene olio di Di castoro Di macadamia Tè verde E betaino Non so che cosa Come si traduca Questo dovrebbe essere un brand polacco Quindi hanno fatto un mix Di prodotti rivenduti Da pink panda Ok C'è una cosa grande C'è un mascara Non puoi essere un mascara Così sottile Perché c'è sempre Stessa difficoltà A fare uscire prodotti Ad aprire A scollare Qua non c'era lo scotch Che carino Ah no vabbè Ragazzi è un eyeliner Di Waibo Si chiama Eccolo qua Metto a fuoco Sa cosa Million dollar Black Meno male che è black Eyeliner Waibo Non si apre Ma una punta finissima Sottilissima Sottilissima proprio Ed è super black Ah ragazzi Dovrebbe agitare Mi sa Perché è di quelli Vabbè Comunque molto Mazza Molto nero Molto noir Ok Forse questo Al momento Il prodotto Che mi è piaciuto di più È l'eyeliner Non ci crederete Andiamo avanti Chissà quanti prodotti ci sono Abbiamo finito Se ne ho ancora No raga è finito Un altro ce n'è No vabbè Che delusione Ok Il brand Ah ok Lo stesso brand Waibo Cioè scusate Quindi ci sono Tre prodotti Waibo Un Mayani E un Revolution Che cos'è È un lip gloss Vabbè C'è un lip gloss Raga C'è un lip gloss Di Di Waibo Quindi recap Di 9,99 euro Acquistati così Senza neanche pensare Quindi Lip gloss Di Waibo Poi sempre di Waibo Abbiamo trovato L'eyeliner Che mi è piaciuto Quindi scusate Tre prodotti Waibo Un altro prodotto Waibo Ok La palette Di Revolution A me non è piaciuta Al di là del fatto Che non mi piace Revolution Proprio non mi sono piaciuti I colori E poi Abbiamo trovato Di Mayani Il solito Che non può mancare Refill Appunto Ombretto Refill Ok Sempre con lo stesso swatch E con appunto L'eyeliner Spero di andare a spacchettare Il calendario Di Revolution Pro Finalmente Così provo Revolution Pro Forse Se ce la facciamo Ok Vi mando un bacio E ciao da Giussi Ciao ciao Ciao